Il movimento avrebbe rischiato una specie di ubriacatura con i risultati veramente notevoli che aveva realizzato. Questo ridimensionamento secondo me rimette in gioco tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Secondo me questa sarà una ventata che sarà uno schiaffone, ma uno schiaffone positivo che ci darà un pochettino una sveglia e ci riporterà secondo me a recuperare un elettorato consapevole che porterà ad essere lo zoccolo duro del movimento ad ampliarsi. È quello sul quale noi dobbiamo basarci. Il fenomeno Grillo credo che abbia in qualche modo riunito tutti quelli che avevano uno scontento nei confronti del sistema e che pensavano che riunendo le negatività si riuscisse a fare qualcosa di positivo. Poi si è subito dimostrato a Roma che questo così non è, che anzi si è dimostrato che non sanno dove sono andati a finire, non sanno qual è il loro lavoro. Il Movimento aveva attirato anche un elettorato umorale. A noi non interessa l'elettorato umorale, a noi interessa l'elettorato consapevole. mandiamoli tutti a casa per poi sostituire con chi? Questo è il problema. Con chi si può governare e comunque prendere delle decisioni e prendere delle decisioni quando c'è un momento di crisi è la cosa più difficile che ci sia perché non si può dire sempre sì. Bisogna anche dire no. La gente ha fatto qualche valutazione, ha detto ma io per la valle a chi mi affido? E noi abbiamo cercato di dimostrare che con la governabilità, malgrado la crisi, abbiamo tenuto, abbiamo mantenuto i posti di lavoro, abbiamo mantenuto il welfare. Abbiamo una situazione particolare in cui il voto di scambio da noi è la regola. La regione, 130 mila abitanti, 100 mila aventi diritto al voto, è e occupa principalmente tutti i settori dell'economia. Con 51 partecipate e controllate, con un'amministrazione regionale che ha oltre 2.500 dipendenti, il corpo forestale dipende dalla regione, i vigili del fuoco dipendono dalla regione e quindi c'è un controllo sull'economia che è totale. Al momento delle elezioni ecco che si scatenano queste dinamiche per cui col sistema delle tre preferenze, che noi chiamiamo delle triplette, è possibile in sezioni che hanno poco più di due, trecento alle volte quattrocento, cinquecento votanti, controllare persona per persona il voto che è stato espresso. Grazie a tutti.